Nel derby Ligure tra Fezzanese e Sestri Levante, valido per la ventesima giornata del Girone E della Serie D, è vestito da scontro diretto per allontanarsi dalle secche della zona play-out, netta sconfitta per i Verdi di Mister Plicanti che cedono 3-0 agli avversari in un match in cui gli ospiti hanno mostrato maggiore brillantezza fisica ed abilità nel capitalizzare gli errori dei padroni di casa. Il primo tempo parte subito con il Sestri in avanti. A Diego Mobilio crossa da destra, Ficcagna respinge di testa servendo nuovamente l'avversario che calcia in porta. Bravo Otranto Godano a salvare sopra la traversa. Al ventesimo ancora Sestri con Ianiello che su punizione cerca l'incrocio. Otranto Godano si fa trovare di nuovo pronto. Ventiseiesimo minuto, primo sussulto Fezzanese con Baudi che si mette in proprio saltando due difensori ed entrando in aria. Al momento del tiro il capitale è però chiuso in angolo. Al ventisettesimo da calcio d'angolo ancora Baudi che imbecca Ficcagna, colpo di testa e pallone alto sopra la traversa. Alla mezz'ora ancora angolo per i padroni di casa. Baudi trova a Simeoni pronto alla conclusione di testa con la sfera che sfiora il montante. Al trentottesimo calcio di punizione per i Verdi, conclusione tagliata del capitano Fezzanotto che sovola la traversa. Nei primi minuti della ripresa è nuovamente la Fezzanese a rendersi pericolosa. Baudi controlla un pallone al volo e serve Grasselli. Il tiro di prima del numero otto si spegne sul fondo. Al cinquantaquattresimo Cragno viene murato da un difensore. L'arbitro non ravvisa alcun fallo così Gobbo Secco raccoglie la sfera e rinvia innescando il contropiede del Sestri. Oneto viene servito alla perfezione e dopo aver restoppato il pallone concluderete con il destro. 1-0 per gli ospiti. Al cinquantasettesimo la Fezzanese prova a controbattere. Su cross di Bugliani il colpo di testa di Baudi è alato di poco. Al sessantottesimo minuto ancora Baudi che va al tiro al centro dell'area ma spara alto sopra la traversa. Due minuti dopo Otranto Godano non si intende con Ficcagna. Rinvio intercettato da Oneto che centra la doppietta e il raddoppio per il Sestri Levante. All'ottantaquattresimo Tris dei Corsari. 1-2 Orlando Pescatore in area. Il numero 19 conclude di piatto alla sinistra di Otranto Godano per il definitivo 0-3 che spezza le gambe ai Verdi. All'ottantaseiesimo ulteriore Beffa per la Fezzanese con il doppio giallo per De Filippi che atterra Orlando fuori dall'area e viene espulso dall'arbitro per somma di ammunizioni.